Bush ammette che il governo fornisce ai media resoconti di notizie preconfezionate Ogni tanto staccatevi dai social e leggete qualche libro A disposizione e in pronta consegna Il nuovo secolare nuovo ordine del male E il risveglio Per sapere come ci indottrinano fin da piccini Le notizie dei media Occupandosi delle notizie, della politica, dello sport Dell'intrattenimento e degli eventi vitali I media condizionano quotidianamente la cultura dominante La struttura sociale e politica della nostra società Possono promuovere l'idea di un bene necessario Che non è necessario E l'interesse del pubblico Nel far credere alla trasparenza attraverso le notizie raccolte Le cronache ed altri contenuti Creati mentre invece si impegnano a dirci l'accuratezza E l'integrità nella ricerca e dei fatti Riguardo gli eventi, gli affari Ed altre questioni importanti Per influenzare le vite della comunità e delle persone Avvertimento Se i media sono controllati da una particolare organizzazione Partito politico o società Il risultato sarà catastrofico Gli effetti negativi di una tale situazione Causano la mancanza di competizione La mancanza di diversità Così come una visione prevenuta riguardo la politica E una potenziale mancata integrità dei media Che sono compromessi Con tutto ciò che scaturisce dai media Non servirà più l'interesse del pubblico Danneggiando anche il processo democratico Oltre ad aprire le porte alla corruzione costituzionale Se le relazioni fra i possessori dei media E i centri del potere politico Arrivano ad essere troppo vicini Se non uniti I media possono diventare lo strumento particolare Per gli interessi politici Che possono sovvertire il ruolo Del proposito democratico dei media Alla fine della traduzione Vediamo a chi appartengono i media degli USA Signor Presidente All'inizio di quest'anno Ci ha detto di aver ordinato alla sua amministrazione Di cessare e desistere Da pagare i giornalisti Per promuovere la sua agenda Citando la necessità di preoccupazioni etiche E la necessità di una linea chiara Tra stampa e governo La vostra amministrazione Continua a fare uso di comunicati stampa e video Che sono nuove notizie preconfezionate Inviate alle stazioni televisive Pienamente consapevoli E alcune o molte di queste stazioni Le manderanno in onda Senza alcuna dichiarazione di non responsabilità Che sono prodotte dal governo Dal controllo generale degli USA Questa settimana ha affermato Che solleva questioni etiche Solleva questioni etiche L'uso del denaro pubblico Per produrre storie sul governo Che finiscono per essere messe in onda Senza rivelare che sono state prodotte dal governo C'è un'opinione del Dipartimento di Giustizia Che dice che questi articoli Sono conformi alla legge Fintanto sempre sono fatti E non su patrocinio E mi aspetto che le nostre agenzie Si aderiscono a quella decisione All'opinione del Dipartimento di Giustizia Questa è stata una pratica Di lunga data del governo federale Da usare questi tipi di video A quanto ho capito Il Dipartimento dell'Aericoltura Ha utilizzato questi video Per un lungo periodo di tempo Il Dipartimento della Difesa Altri dipartimenti li hanno utilizzati Quindi è importante Che si basino sulle linee guida Stabilite dal Dipartimento di Giustizia Ora penso anche che sarebbe utile Se le estrazioni locali Poi arriverassero i loro spettatori Se si sa che questo si basa Su un rapporto basato sui fatti E hanno scelto di usarlo Ma evidentemente in alcuni casi non è così Quindi comunque L'amministrazione garantisce Che ciò sia accaduto Includendo quel linguaggio Nel rapporto preconfezionato Sì, non lo so Non mi guardo Cosa vuol dire una dichiarazione Sono giotto al piav Sì, in qualche modo Per assicurare che non possa andare in onda Senza la dichiarazione Che lei crede sia così Sai, quello che voglio dire C'è una procedura che seguiremo Le estrazioni locali dovranno Se c'è una profonda preoccupazione a riguardo Dovrebbero dire ai loro spettatori Cosa stanno guardando Prego signore Oggigiorno Sette ebrei americani Gestiscono la vasta maggioranza Delle televisioni USA La stampa dei quotidiani L'industria dei film di Hollywood L'industria della pubblicazione di libri E le case discografiche Molte di queste industrie Sono raggruppate all'interno Di enormi media conglomerati Gestiti dai seguenti sette individui Gerald Living Amministratore delegato di Owl Time Warner Michael Eisner Presidente e amministratore delegato Dell'azienda Walt Disney Edgar Bronfam Senior Presidente dell'azienda Seagram Edgar Bronfam Junior Presidente e amministratore delegato Della Seagram e capo dell'Universal Studios Summer Redstone Presidente e amministratore delegato Della Viacom Inc Dennis Dammerman Vicepresidente della General Electric Peter Cherning Presidente e co-amministratore delegato Della News Corporation Limited Questi sette ebrei americani Collettivamente controllano ABC NBC CBS Turner Broadcasting System CNN MTV Universal Studios MCA Records Geffen Records DCD Records GRP Records Rising Times Records Cura Universal Records Cura Universal Records E Interscope Records Lo stesso vale per la maggior parte dei giornali Attraverso il copioso indice alfabetico dal sito web www.tinelli.eu potete cercare e prendere visione del video Quali sono le società che controllano il 96% dei media di tutto il mondo pubblicato il 10 febbraio 2018 Un saluto grazie a tutti